Sulla situazione della sanità sarda in generale, non rese in particolare, nuova presa di posizione di Roberto Capelli, deputato del Centro Democratico, che in questi anni ha condotto una battaglia spesso solitaria sulla questione del project financing dell'ASL di Nuoro, che recentemente è stato annullato insieme al lato aggiuntivo numero 2. Un attacco alla gestione della sanità fatta in questi anni dalla giunta Pigliago, che secondo Capelli ha portato a delle razionalizzazioni che non hanno prodotto dei risparmi e soprattutto non ha dato risposte adeguate alle esigenze dei cittadini di avere cure appropriati in tempi rapidi. Il deputato del Centro Democratico ha parlato di una sanità sarda che perde 400 milioni all'anno e che pur essendo pagata dai sardi si muove sulla base di parametri del CIPERI tagliati sulle regioni a statuto ordinario. L'intesa tra Sardegna e Lombardia, firmata dal Presidente Pilaru, prevede una collaborazione tra due regioni che hanno problemi differenti, con 1,6 milioni di milanesi concentrati in pochi chilometri e l'equivalente dei sardi sparsi su una superficie di 24 mila. Tornando alle problematiche della sanità nuorese, Capelli ha ricordato la sua proposta fatta alla giunta che per Nuoro prevedeva la creazione di un'azienda ospedaliera San Francesco Zonchello sul modello del Brozu, proposta respinta perché secondo la giunta Nuoro non avrebbe avuto uno dei tre requisiti richiesti. Si è optato invece per concedere la sede della Reus, l'azienda per l'emergenza e urgenza, che secondo Capelli rimarrà una scatola vuota, visto che le centrali operative rimarranno a Cagliari e Sassari. Quanto al project financing, il deputato nuorese ha ripercorso tutte le azioni che hanno consentito di arrivare ad un suo annullamento, questo dopo la sentenza dell'ANAC di Cantone. Da risparmi intervenuti con questo atto, secondo Capelli, si potrebbero ricavare risorse per rilanciare la sanità nuorese. Quanto ai lavoratori dei servizi di ausiliariato, portierato e CUP, Capelli ha sottolineato il silenzio su questo affronte dei sindacati. Una soluzione al problema dei lavoratori si potrà trovare solo rispettando le leggi che prevedono per l'assunzione nel pubblico impiego di concorsi e selezioni. Sulla sanità, ha concluso Capelli, serve che i cittadini si muovano perché sono loro a pagare le conseguenze dirette di una cattiva gestione del sistema, delle lungaggini nelle liste d'attesa o della carenza di personale nei reparti.